ciao a tutti io sono l'alice l'insegnante di super jump delle palestre universo di prato montemurlo e pistoia allora che cosa che cosa facciamo nel corso di super jump questo è il nostro giocattolino è il nostro attrezzino ok ed è fantastico perché ci facciamo sopra un miliardo di cose super jump ha diversi protopolli quindi partiamo dall'original che è la mamma di tutti i protopolli del super jump ok e da quello parte la base di tutto quindi noi facciamo il combat dove si usa le movenze della kickbox quindi pugni calci carichi i gangi montanti poi abbiamo il funzionale quindi super jump power 1 circuiti e power 2 quindi che riguarda proprio il tabata il fartlek la hit e poi abbiamo il super jump hot dance che sono dei tre coreografati divertenti un po più ballettati abbiamo il super jump junior per i bimbi abbiamo il super jump intensity che con l'uso della band elastica andiamo a stuzzicare a tonificare nello specifico i vari gruppi muscolari che succede quando noi saltiamo sul super jump il primo beneficio del super jump ovviamente il poco impatto articolare rispetto a terra abbiamo 85 per cento in meno di impatto sulle nostre articolazioni quindi sia vertebre schiacciate male alle ginocchia male alle caviglie tutto quello che può comportare un malessere osseo qua sopra è molto meno diciamo impattato l'altra cosa fondamentale del super jump è che abbiamo un risciacquo linfatico disumano nel senso che tutte le volte che noi spingiamo con tutta la pianta del piede sul tappeto abbiamo una rifiostologia plantare come una bottiglietta d'acqua gazzata cioè lasciabossi ma da qualche parte poi il sudore in eccesso la pipì vi scapperà subito la pipì dovrà venire tutto fuori quindi questo giocattolino è molto divertente e non ve ne accorgete non ve ne accorgete perché saltate sudate fate fatica ma stimolando comunque le endorfine siate contenti siete felici e quindi vi passa l'ora e non ve ne accorgete nello specifico poi ci sarebbe altro 800 miliardi di cose da dire vi ho detto quelle più essenziali proprio principali mi trovate anche nelle piattaforme online delle palestre universo dove potete vedere appunto l'orario dei corsi sia dall'app che da spotrick e quindi vi aspetto a fare lezioni insieme a me online e speriamo presto anche dal vivo ciao a tutti